Musica Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Ezio auditore! Entra entra! Altrimenti ti ammazzo Bartolomeo Aspetta qui, ti presento mia moglie Fantasilea! Fantasilea! Ma dov'è? Hai controllato sotto il tavolo? Ah, eccola qui Lieta di conoscervi Inca... Davvero Ora, parliamo di guerra Come va la battaglia con i francesi? Bene, riusciamo a tenergli testa Hm, Machiavelli aveva dipinto un quadro più fosco Ah, lo conosci, Riccardo Abbiamo bisogno del vostro aiuto Ah, scusatemi Lanciami Bianca Ezio, vengo subito al punto Lo scontro non sta andando bene Siamo stati attaccati su entrambi i fronti I Borgia da una parte, i francesi dall'altra Tuttavia, la posizione dei Borgia è debole Se riusciste a sconfiggerli, noi potremmo concentrare le forze sui francesi Forse so come aiutarvi Grazie di esservi confidata con me, Madonna D'Albiano Una moglie deve cercare di aiutare il proprio marito Qualcuno fermi il capo prima che arrivi alla torre! Uomini, uccidetelo! Siamo con voi, signore State lontano da me Ah, con loro chiuso Siamo con voi, signore Sei un uomo morto Non lo vedo Dov'è? Là, spelti! Ma dov'è? Maledizione! Sì! Spero tu abbia chiesto per tonno a Dio Lo vedo! Via, via! Dove sarà finito? Sì! 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 Bellissima di! Bellissima di! Bellissima di! Bellissima di! Oh, oh, oh! 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 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh.